Ciao a tutti, la situazione è questa qua, cioè è una persona tranquilla che sta facendo il solitario, ve lo faccio vedere Prendi il fono, piano piano lo attacchi dietro e attacchi dentro Prendi il fono, scemo, scoppia il cervello, da quanto sei deficiente, ma come le carte, sto faccio vedere, ma come che urla, sto faccio vedere, mi porta via tutte le carte Ebbè a capire, a capire, anche il capire, io, io cazzotti, stai bene con sta spazio? Va via!